Torna a sfidarsi a distanza di due mesi Rimini e Ternana dopo che l'ultima volta la gara fu sospesa il 30 dicembre 2018 per Nebbia. Si ripartirà dal diciottesimo minuto di gioco. Entrambe le formazioni non possono schierare in campo i giocatori acquisiti nel mercato invernale. La partita ha inizio con la Ternana che direttamente a fallo laterale restituisce il pallone ai giocatori di casa. Il primo acuto arriva per il Rimini direttamente da calcio piazzato con Roberto Candido che chiama all'intervento i due tempi l'attento Ianna Rilli. La Ternana replica tre minuti più tardi. Bergamelli lancia in profondità povega il quale appoggia il pallone in direzione di vantaggiato. Il numero 10 segue un velo per l'inserimento in Marilungo che apre a sua volta per il numero 7 Furlani il cui tentativo viene svettato in corner da Roberto Candido. Primo piano per il centocampista in maglia numero 7 della Ternana. Ternana che crea la migliore occasione più a tempo al minuto 30 quando Calegari appoggia per Bergamelli. Il traversore di quest'ultimo per l'inserimento perfetto in area di rigore di Furlan ma altrettanto strepitosa la parata di Giacomo Nava ad evitare il peggio. Il Rimini prova uscita dalla propria metà campo con Candido che dalla distanza chiama all'intervento nuovamente in due tempi Ianna Rilli. Ancora Rimini protagonista con il traversore di Petti che viene raccolto dall'altra parte a Maurese appoggia la sfera per Alimi il cui tentativo si alza sopra la porta difesa da Ianna Rilli. Termina qui il primo tempo sullo 0-0 nella ripresa sessantissimo il Rimini prova a rendersi pericoloso e lo fa con Candido che appoggia per Alessio Petti. Terzino emette questo traversore al centro in area di rigore con Ianna Rilli chiamato all'intervento a rifugiarsi in calcio d'angolo. Quattro minuti più tardi non perfetto disimpegno di Venturini ne approfitta Mari Lungo che appoggia la sfera per vantaggiato il quale arriva al tiro con Simoncelli che ci mette una pezza nel deviare la sua conclusione in calcio d'angolo. Ma quattro minuti più tardi Rimini passa Candido recupera il pallone a centro campo innesca in profondità Scott Arlotti che una volta incuneato in area di rigore viene toccato così a Giacchite per il direttore di gara. Ci sono tutti gli estremi per assegnare il penalty. Il referee ci mostra appunto l'ottimo inserimento di Scott Arlotti con Giacchite che tocca nettamente il giocatore in maglia. Numero 17 dagli 11 metri Roberto Candido non sbaglia l'appuntamento con il gol raccogliendo l'abbraccio dei compagni in campo ma anche di tutta la panchina. Per Candido si tratta del secondo gol di stagione arrivato sempre dagli 11 metri. Il referee ci mostra appunto il rigore trasformato da numero 27 in maglia bianco-rossa che spiazza il portiere Gianna Rilli. Il Limi prova a mettere a sicuro il match con questa punizione che in verità è un appoggio per la Limi cui tentativo termina fuori dallo specchio della porta difesa da Gianna Rilli. La Tenana invece al primo vero a fondo passa. Corner vantaggiato recupera il pallone lo alza Campania e per la testa Diakite perfetto a trovare l'angolino vincente alla destra dalla porta difesa da Nava. E per Diakite un abbraccio che sa di liberazione dopo aver provocato il rigore dell'1-0 per il Rimini. Il referee ci mostra appunto questo pallone alzato all'ex di turno vantaggiato per il colpo di testa Diakite che si infila nell'angolino alla destra di Nava. Con tre giocatori davanti al portiere ma l'abitro fa segno che il gol è regolare e poi un altro ex di turno Bifulco apre il gioco per vantaggiato che va alla conclusione fuori dallo specchio della porta difesa da Giacomo Nava. Il finale ancora di marca Umbra con il traversone di Marilungo direttamente a calcio piazzato per la testa Diakite che si alza sopra la porta difesa da Giacomo Nava. Ma sul rinviro di Gianna Rilli termina qui la gara dove Rimini e Ternana si dividono un punto per parte con i Rimini che ha guante in classifica il Renate. Mentre la Ternana ottiene un punto che sa di serenità in virtù di una trasferta molto insidiosa quella di sabato prossimo in terra marchigiana contro la San Benedettese.